La quarta dose oggi vai a fartela, non c'è nessun problema, ma devi sapere che se arriverà come ormai penso succederà la quarta, la diciamo del vaccino aggiornato, a novembre si faranno comunque la quinta dose. Ma cattici! Cattici! E' utile che la prendi con quella povera creatura innocente! Lo so benissimo che sei un erotomane, tu hai scelto di fare il medico solo per spogliare le donne. Un po' di rispetto, io sono un dottore! No, non sei il dottore, sembri! Sono un dottore! Vieni povera! Quello ci starebbe da bruciarlo! Vieni con mamma!